Il 24 gennaio nella sede del comune di Pesaro andranno all'asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo 10 immobili di proprietà comunale del valore complessivo di base d'asta di poco inferiore ai 5 milioni di euro. Il comune intende infatti rigenerare gli immobili con nuove funzioni per generare investimenti a beneficio del territorio. Tra questi si punta a recuperare l'impianto di Villa Marina che viene alienato mantenendo la destinazione sportiva. Quasi 5 mila metri quadrati sul lungomare che partiranno dalla base d'asta di 850 mila euro. Va all'asta anche la scuola Mascarucci di Soria con nuova destinazione urbanistica e residenziale terziario che il comune aliena con base d'asta di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Rientra nel bando anche l'otto di via degli artigiani 9 originariamente adibito a scuola, oggi sede del centro di aggregazione Totem di Villa San Martino che necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria. Un'asta che comprenderà anche terreni edificabili in via Condotti a Muraglia e in via Fastigi. Stessa zona per l'ex delegazione Villa Fastigi in quello che era un edificio scolastico con valore di 208 mila euro. All'asta anche tre immobili situati in via Piola Torre di Montecchio di Vallefoglia, vale a dire due negozi e gli uffici dell'ex poliambulatorio ASUR. Massimo Talk Associ 하고 Grazie.